Dopo l'ultimo bollettino diramato dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, sono 15 casi di Covid-19 registrati sul territorio comunale di Loreto a Prutino, sempre monitorati i due istituti scolastici che al momento fanno registrare una classe delle medie Gerardo Rasetti in quarantena. Fortunatamente non abbiamo persone ricoverate gravi, qualcuno è ricoverato ma non in condizioni gravi, quindi mi auguro che tutti si attengono alle norme raccomandate per mantenere un livello che non si riguarda. Abbiamo adesso dopo una classe di Passo Cordone, da oggi abbiamo in quarantena una classe delle scuole medie, quindi c'è la massima attenzione e la massima collaborazione con l'ASRA. Ecco, c'è un'altra scuola, scuola elementare, dove sono bambini più piccoli, la situazione com'è? La situazione è tranquilla per il momento. Da ieri poi è in vigore il nuovo decreto comunale che prevede l'ingresso contingentato presso il cimitero comunale in occasione della ricorrenza del primo novembre. Per favorire, anche se raccomando, magari di delazionare il più possibile, di rimandare anche le visite al cimitero dal 26 e fino al 4 compreso, il cimitero è aperto dalle 8 di mattina alle 18. Soprattutto domenica, il primo novembre, ci sarà la protezione civile che ci aiuta, raccomando di venire in mascherina, di rispettare la segnale edica per l'ingresso e l'uscita, di evitare assembramenti. E se si usano le fondanelle, magari di munirsi di guanti, perché poi tutti vanno a premere il bottone o il rubinetto per attingere acqua. Poi, un invito alla cittadinanza, soprattutto ai giovani, a mantenere un comportamento responsabile in questa fase della pandemia, per non ritrovarsi poi ad intasare le strutture ospedaliere. Richiamo l'attenzione ad evitare attività pericolose, perché poi si vanno a intasare i pronto soccorso e comunque i reparti ospedalieri. Raccomando, non è che a scuola abbiamo investito tanti soldi e tante attività di prevenzione, poi il pomeriggio, parlo da genitore che ha anche figli minorenni, poi il pomeriggio magari tra feste, uscite al parco o in piazza, poi ci sono gli assembramenti. Evitiamo di vanificare tutti gli sforzi che si stanno facendo a scuola. Quindi mi raccomando, un senso di responsabilità per evitare il contagio.